Bella a tutti ragazzi, io sono Rikki e oggi vi presento la Rikki Carrer Mode In cosa consiste ragazzi questa super incredibile serie che voglio portare, anzi provare a portare su YouTube Italia? Praticamente bisogna creare un campionato di 20 YouTubers, si spera, non è facile andare a prenderli tutti e vendi ma ora vi spiego come Con una carriera fatta da squadre di serie A che verranno sorteggiate con un video dedicato sul mio canale e quindi ogni YouTuber avrà la sua squadra di serie A Ho pensato che la soluzione migliore è che bisognerà portare due episodi a settimana che alla fine non penso siano tantissimi ma sono belli da vedere Il martedì e il venerdì Una cosa importantissima che voglio dire, ogni YouTuber praticamente imposterà la propria carriera come vuole Cioè può fare 20 stagioni, può fare 6 stagioni, una sola stagione soffermandosi tantissimo su un determinato ambito tipo il mercato L'unica cosa ragazzi che vorrei è che ci fossero 3 partite per episodio Una cosa fondamentale che voglio è che ogni partita sia giocata dallo YouTuber Cioè mai simulare nessuna partita e la difficoltà del gioco può essere o a campione o a leggenda Si inizierà poi, una volta scelte tutte le squadre poi vi dirò come, il 9 ottobre Che è una data che va oltre le due settimane circa dopo l'uscita di FIFA 17 Scusate, di FIFA 18 Così ognuno potrà avere la sua copia del gioco e potrà organizzarsi al meglio Come partecipare ragazzi? Basta che mi mandate una vostra candidatura Che ne so, mettete io questo canale, mettete il vostro link Vorrei fare questo e questo, so fare questo e questo Poi vabbè io mi vado a vedere tutti i vostri canali Lo mandate a questi email che vedete nella grafica E io mano a mano mi andrò a visionare i vostri canali Come gestite la cosa, è cosa fondamentale ragazzi Non c'è limite di iscritti e via dicendo Basta che avete un bel canale YouTube ben gestito Potete avere anche 200 iscritti Ma fare cose di qualità e portare veramente buoni contenuti Io potrò scegliervi senza problemi Niente ragazzi, alla fine, il 15 giugno ho scelto questa data Farò un sondaggio sul mio canale dove tutti potranno poi votare La carriera migliore che è stata su YouTube Italia Con una determinata squadra in questa nostra serie A Ragazzi, niente, chiudo qui il video Spero che partecipate numerosi Faccio una premessa, ho un canale non grandissimo Soprattutto per la carriera allenatore Però mi piacerebbe che partecipassero tanti tanti YouTuber Che arrivassimo a questi 20 partecipanti Perché potrebbe uscire qualcosa veramente di divertente su YouTube Italia E io spero veramente di realizzare questa mia clamorosa globale serie Quindi ragazzi, un saluto a tutti E mi raccomando, partecipate numerosi Mandatemi tutte le vostre candidature Magari se conoscete YouTuber adatti a questa serie in generale Voi iscritti neutrali Potete anche, che ne so, mandare questo video al vostro YouTuber preferito Farglielo notare Così magari poi lui mi contatta tramite email e si candida Quindi ragazzi, ancora una volta un saluto a tutti da Ricky E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi